Ormai si deve essere sicura dopo che siamo scontrati, è sicura per forza. Scusa, ma il fonte Morandi che è caduto? Sì, ma non dirlo. Dov'età? 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 Grazie. Che vuoi? Te lo vogliamo salire. Ma quando è caduto l'hai sentito? No, perché qua era una giornata tessima sotto il coraggio. Mi sei confuso per voi. No, hai detto lì dove sei? Non si vede. No, non si vede. Non si vede dove pare per quel tempo. Vai. Vuole anche vedere dove c'è un personaggio schermo verso? aspetta un attimo che c'è signore andiamo alla gelatina grazie Grazie a tutti.